Ciao a tutti cari amici, bentornati nel nostro calendario dell'avvento. Oggi 3 dicembre ho scelto per voi una frase di Maria Teresa di Calcutta. Se giudichi le persone non avrai tempo per amarle. Maria Teresa di Calcutta. Scrivetemi qui sotto i vostri pensieri, vi saluto e vi do appuntamento a domani.